Oh, sono arrivate. Allora, andiamo, no? Perché ci presentiamo in questo stato? C'è un piano. Una pompa? Difficienti. Vi serve? Ciao. Ciao, Ra. E allora ci vediamo. Dove ci vediamo? Beh, veniteci a trovare, no? Oh, se si gira non andiamo oggi. E vai, ha visto? Papà mi ha impedito di vedere l'unica persona per cui ho deciso di venire in questo posto di merda con voi. Se lo dici a papà ti ammazzo. Quel maiale tutti gli anni mette in città mia figlia! Quell'estate del 1981, mia sorella, che allora aveva 21 anni, era già madre di una bambina di sei mesi. La avuta non si sapeva bene da qui. Sono le dieci e mezza. Alle dodici e mezza qui. Ciao. E questa? Questa che poi è tuo nipote, però oggi sta con lo zio. Io avevo preso tre materie a settembre per il secondo anno consecutivo. Dovevo studiare come un pazzo. Vuole studiare a stestante, eh? Tosto. Pochi mesi prima papà aveva avuto un infarto che ci aveva fatti spaventare da morire. E ora doveva riposarsi. E come se non bastasse ultimamente le cose tra lui e la mamma non andavano proprio bene. Ma che ci fai qui? Come fai? No, ascolta. Scusami, scusami. Scusami. Ti chiedo scusa. Come fai? Se ti metti contro di lui, la fa solo stare peggio. La mamma sa quello che deve fare. La vita di coppia è così. Un giorno stai bene. Dove andai? Sembra che tu sia felice. E il giorno dopo fai fatica a guardarti il faccio. Hai capito che la devi piantare? Se Antonio si dovesse tirare indietro, mi potrei offrire io. Se tu fossi innamorato di me sarebbe un bel guaio. Perché? Mi sa che ti farei soffrire. Fu per tutti questi motivi che decidemmo di tornare alla casa in campagna e passarvi ancora una volta le vacanze insieme. Senza sapere che per ognuno di noi, per un motivo o per un altro, quella sarebbe stata un'estate un po' speciale. Allora stasera. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. L'alba di sopra è un tramonto, io non comprendo il mio canto e canto te. Allora stasera.